Da qua in qua la casa è perfetta, non ha nessun tipo di danza. E qua la casa è più delicata. Sono un po' giocato, ho fatto tutto bene, in tutte le parti. Ma quindi ha retto a due terremoti addirittura questa casa? Questa casa ha retto a due. Perché voi l'avevate costruita già nell'84? Si, nell'84 ero sputato io. E' rimasta in guerra nell'84, 2002, 2008. Anche qua si è servito. Si, ma nel 2000 è già appunto lontano completamente. Comunque ha retto a tre terremoti importanti che sono stati nella provincia di Catania. A Zafferano. A Zafferano. A Zafferano è una santaveleria fredda. Che cosa è stata fatta bene? Perché se avevano fatta bene le storie c'erano morti. Se non era fatta bene le storie c'erano morti. Perché tu consideri che molte persone ci sono trovate solamente pareti addosso. Ma se collava il tetto, io avevo fatto il tuo discorso. Sì, tu cavolo tu, ma da neanche tu voleva poterlo. Ma perché era una casa vecchia? Un tetto perché era una casa vecchia? , più, più. Grazie a tutti.